Spazio morto sì Questo gioco è bellissimo Questa è una delle poche saghe horror Che ho veramente giocato tantissimo E' una delle mie saghe horror preferite Non è bello questo gioco Che poi questo gioco Se vuoi giocarlo in modo sgravo Basta che ti potenzi sempre la pistola Ma il fatto è che io so già la storia Io so già la storia Ma sbaglio lui non si vedeva in faccia all'inizio Ma non iniziava così Non mi ricordavo sto pezzo Vabbè non ho giocato il 2008 Nel volume spacca timpani Abbiamo fatto un bel casino comunque Oh sì il casco Madonna come si muove lento Posso avere uno di quei cosi? Questo gioco mi ricordo che era tutto da esplorare Madonna ragazzi Un'altra roba Oddio c'ho paura quando vedo i necromorfi come sono Oddio me lo ricordo qui Covid Un'altra varia No i sistemi di quarantena sono a posto Un momento Sentito? Sì 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 lo sento Emma Alma Daniels Riattiva quegli ascensi C'è qualcosa qui con noi Via Manco riguardo Porco due Dove trovi i miei desti? Sono sparso su tutto il ponte Ah bella lama Bello 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 Dammi un secondo che ora faccio pratica quei tasti Però com'era l'attacco melee Ok con il mouse Aiuto regà Mi ricorda ancora qualcosa Aiuto C'ho paura Oh mio dio il sound Porco Tua madre Ma per la torcia questo era l'unico modo? Una volta si tirava dritto Ho mai tirato dritto questi giochi Insisto Con l'ansia 2000 In questo momento No questo gioco era già un capolavoro Assolutamente Concordo Oh mio dio Oh mio dio Leg meta Sì sì Ma sempre leg meta Regà Io sto gioco L'ultima difficoltà Me lo ricordo ancora Dio che era? Cosa mi è volato addosso? Una volta mi ricordo Che sta in un ascensore E ti entra un necromorfo E ti entra un necromorfo dentro l'ascensore E anche il gioco non è per debole di cuore E che questo è veramente Regà Cioè già all'epoca Sto gioco era avvantissimo E per averlo giocato io Che non mi piacciono gli horror Cioè quindi fate voi La cosa migliore La cosa migliore da fare E potenziare la lama Qui Eh io mi ricordo Che questo ragazzi Non hai bisogno di usare altre armi Se non la lama La lama è la cosa più rotta del gioco Oh 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 or me lo ricordo questo era per rallentar serve quello per rallentare tipo le porte gli oggetti non sto a parlare perché sto su da freddo siamo a bordo c'è stato un urto ma ora è tutto ok il sound è fuori di testa sento queste zampette sul metallo le sento dentro il mio cervello c'è comunque regà vabbè io non devo far commenti però sto gioco è capite sto gioco di che anno è sto gioco è 2008 un single player lineare cioè vi rendete conto un remake di un gioco vecchissimo e poi mi dite ma Giorgio Giorgio perché credi tanti giochi nuovi che escono non proviamo non vedo l'interno cos'hai addosso? è sound? Hayley ascoltami per favore la Ishimuna è invasa da dei cazzo di mostri non hai sentito nulla cosa? non vai sistema di comunicazione dobbiamo riparare la Kelly Onura rapporto danni? oh sì eccolo qui dovevo stare con te ma se zop non me lo ricordo questo pezzo non me lo ricordavo mi serve un ottimo di relax raga ma è molto meglio dell'originale oh cioè questa è un'esperienza mi sono venuto di brividi quando si è aperto la porta figata figata mastitute 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 chat vediamo questa ma ero dimenticato di quanto questo gioco era eclatante per farlo giocare a me che io odio i giochi horror e assurdo beh questa è bella eh devo dire questa è la tuta del ma vabbè ma questa è roba di di Dead Space 3 praticamente a Sink assolutamente vale la pena prenderlo anche se non conosci la storia diamo la blu ho il cazzo duro dai raga ma che è sta tuta ma è bellissima ok quello che sposta la roba ok quello che sposta la roba ma io non lo uso l'arma questa qui non lo posso nemmeno vendere vero? intanto non è senso da usare sta roba io utilizzo solo la pistola al plasma raga rilevata anomalia pericolosa quarantena attivata porco vabbè ma che giochi di luce sciarga non lo uso aspetta merda i bambini buona sta scena con i feti arco mi viene il fumo come è fatto bene sulla torcia boh regà cioè io non non vorrei dimmi accesso a gravità zero mi avevo dimenticato bello regà ma quanto l'hanno rifatto bene oh mio dio ma poi regà senti proprio che l'armatura che ha addosso è pesante ha tremato la nave do un'occhiata ah io lo so perché ha tremato la nave do un'occhiata do un'occhiata do un'occhiata dio guardate che roba regà allucinante ma si ma è l'attenzione ai dettagli c'è questo mi sembra un mondo vivo porco 2 questo è un mondo vivo che vive con me no fai affare in culo fanculo gioco di merda nel 2008 era avanti anni luce perché ora non sarebbe avanti anni luce quei giochi che escono stai scherzando cazzi rockin' go regà vedete sto buco io mi ricordo una cosa incredibile di questo buco però mi sa che è moooooolto più avanti nel gioco merce radio verano quindi ho lasciato il messaggio a un uomo sarà discreto ho ricevuto l'ultimo rapporto da EG situazione e tensione di quattro il capitano Matthew Samet il 40% della popolazione della colonia mostra sintomi depressioni allucinazioni aggressività le persone laggiù muoiono sono sicuro che in qualche modo c'entra il marchio ma non ho abbastanza dati merce forse mi sbagliamo ci servono delle risposte costi quel che costi quel paziente Brent Harris potrebbe essere la nostra ultima speranza what? bro tutto se vuole io non me la ricordavo questa roba io non mi ricordavo assolutamente questa scena wow wow o o o Grazie a tutti.